dal 21 maggio al 5 giugno torna al ricetto medievale di candelo in provincia di biella candelo in fiore che quest'anno sarà all'insegna della ripartenza dopo un anno di stop dovuto alla pandemia un appuntamento giunto la diciottesima edizione al quale siete tutti invitati invitiamo i visitatori a vedere il borgo del ricetto di candelo che non ha bisogno di grosse presentazioni di per sé perché è uno dei più ben mantenuti nel 1400 andare in avanti però lo facciamo diventare un giardino fiorito oltre alla tradizionale esposizione di giardini fioriti all'interno delle stradine dell'antico borgo medievale che ogni anno attira 30 mila visitatori dall'italia e dall'estero saranno moltissime le iniziative collaterali che animeranno le serate di candelo dall'arte della fondazione pistoletto a slow food dall'economia circolare a franco collè e plurivincitore di ultratrail al meteorologo luca mercalli per concludere con l'alpinista simone moro appena tornato dalle cime del nepal quest'anno vi portiamo nel nostri territori montani perché l'onu quest'anno ha voluto dedicare l'anno alla salvaguardia delle zone montane sul sito candelo eventi punto it trovate tutte le informazioni e le modalità di partecipazione a questo appuntamento con la bellezza e il colore che inonderanno le vie di uno dei borghi più suggestivi d'italia non mancate